Dal primo settembre torna la festa rionale di Maggianico a Lecco, un evento che è molto sentito dalla cittadinanza, tanti gli ingredienti, dalla musica al buon cibo, ai tornei sportivi e poi la solidarietà. Quali le novità e quali le conferme in questo programma? Il programma come sempre è molto vario, viene fatto tutto per le famiglie, per i ragazzi, per i giovani che frequentano la comunità maggianichese. Abbiamo momenti in cui le persone si ritrovano per mangiare, per ballare, per divertirsi, qui sempre in oratorio. Sono anche momenti di sport, come ad esempio la chilometro verticale. Alla quinta edizione c'è un torneo di pallavolo organizzato dalle ragazze della polisportiva e altri momenti. Un modo per ritrovarsi per tutta la famiglia e per tutti i ragazzi giovani di Maggianico, ma soprattutto quelli che da Maggianico se ne sono andati per motivi di lavoro, di famiglia, che però in questa occasione ritornano, si ritrovano e hanno motivo di rivedere amici, familiari e anche vecchie persone che qui hanno lasciato. Lunedì 28 agosto la fiaccola della festa rionale di Maggianico è partita da Accumoli, dove si è recata una delegazione del Comune di Lecco e della provincia. Qualche anno fa la fiaccola era partita dall'Aquila, quest'anno appunto purtroppo un'altra località che è stata toccata da questo triste evento del terremoto e quindi lunedì è partita da Accumoli e raggiungerà Maggianico, sabato alle 18 verrà accolta in piazza della chiesa e dopo l'accensione del tripode ci sarà la messa sul sagrato della chiesa. Per dare continuità a questo evento, al mercoledì successivo avremo un'iniziativa proprio per far vedere a tutte le persone che interverranno qual è stato il momento di accensione della fiaccola da Accumoli con un gruppo marchigiano che abbiamo voluto invitare per l'occasione con canti, balli tradizionali del posto. Una manifestazione che è diventata ormai tradizionale è il San Remino. A che edizione siamo arrivati? Oramai siamo alla 31esima edizione, sicuramente il momento penso più sentito di questa nostra festa. I ragazzi e non più ragazzi hanno la possibilità di esibirsi di fronte al pubblico per far vedere quelle che sono le loro capacità canora e devo dire che da queste manifestazioni sono usciti anche personaggi che adesso nel mondo dello spettacolo hanno avuto il loro spazio sicuramente importante. Ovviamente è una festa rionale e si ricorda in particolar modo San Rocco. Al termine di questa festa c'è la processione di San Rocco che ricorda il voto che la popolazione maggianico ha fatto, in questo caso 181 anni fa proprio in occasione della peste, il popolo maggianichese fece questo voto a San Rocco. Vorrei ricordare che quest'anno la processione sarà tenuta dal nostro padre Claudio, missionario che festeggia il suo venticinquesimo di sacerdozio nato, cresciuto e uscito da questa comunità maggianichese per cui per noi sarà motivo di orgoglio e di soddisfazione.